Ancora i cartoni? Ancora i cartoni con Iaio! Arrivo! Arrivo! Hai visto? Guarda che bella serata! Ecco il gelato! Ecco il gelato! Tu, Nicola! Io sono a dieta ma lo prendo! Tu, voi? Sì, sì! Il caprese? Il gelato me lo mangio visto che abbiamo cancellato tutti gli altri video perché non erano pubblicabili! Tu lo vuoi il gelato amore? No!